Rispondono di furto in abitazione aggravato, illecita, detenzione di arma comune da sparo, danneggiamento e violenza privata aggravata alle quattro persone di San Macco e Lamis, destinatarie di misure cautelari delegate dalla Procura di Foggia. Una persona è finita agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico e tre hanno avuto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il provvedimento trae origine da un incendio in una casa colonica nelle campagne di San Giovanni Rotondo avvenuto il 7 marzo scorso e dalla complessa attività di indagine scaturita e coordinata dalla Procura e svolta dai carabinieri tra i mesi di marzo e agosto. Le indagini hanno cristallizzato la partecipazione dei quattro all'incendio e sarebbero stati anche identificati quali autori del furto dei due costosi generatori di corrente. Per garantirsi l'impunità, gli indagati avrebbero anche minacciato con una pistola alcuni testimoni oculari effettuate anche perquisizioni nei luoghi nella disponibilità degli indagati finalizzate al rinvenimento di tracce pertinenti o proventi di reato.